L'hanno trovata riversa sul divano senza vita, i vigili del fuoco e i carabinieri dell'Aquila, che hanno dovuto ieri sera sfondare la porta di un appartamento del progetto case in via Anna Magnani, accese di Preturo. Si è spenta nella solitudine, trovata dopo dieci giorni circa Pasqualina Bucci, giovane aquilana di 25 anni. A dare l'allarme è stata la sua dirimpettalia, che, ha raccontato agli inquirenti, non la vedeva da circa dieci giorni. L'ultima volta Pasqualina era stata vista uscire di casa per gettare l'immondizia. La donna, non vedendola poi da giorni, e insospettita soprattutto dal cattivo odore che proveniva dall'appartamento, ha dato l'allarme ai vigili del fuoco e ai carabinieri dell'Aquila. Il corpo senza vita era riverso sul divano, nessun biglietto o altri dettagli apparenti tali da far pensare al suicidio. Al momento appare esclusa dagli inquirenti anche la morte violenta, ma ad ogni modo il PM Fabio Picuti ha disposto l'autopsia e dunque procedono gli accertamenti sulla salma della giovane per stabilire con esattezza le cause del decesso. Difficile, infatti, a prima vista, dopo dieci giorni, trovare sul corpo segni particolari. 25 anni Pasqualina, morta nella solitudine, un dramma per una ragazza che a quell'età dovrebbe essere circondata da amici, affetto, felicità. L'appartamento di Via Anna Magnani, dove Pasqualina viveva dopo il terremoto avendo perso casa, è stato posto sotto sequestro. Una giovane minuta che forse condivideva con molti coetanei la paura del futuro, la grande incertezza, le preoccupazioni. Da qualche mese, infatti, aveva perso il suo lavoro. Grazie. 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 Grazie.